La politica specifica Ridurre i costi della politica partenopea è questo l'obiettivo della proposta del Popolo della Libertà Campania. Il coordinatore del partito, Marcello Taglialatela, e il suo vice Paolo Russo hanno invitato i presidenti delle dieci municipalità cittadine a non procedere alla nomina degli assessori. Ad oggi ancora non sono state formate le mini giunte. Mettendo in pratica l'invito dell'assessore regionale all'urbanistica si riuscirebbe a far risparmiare alle casse di Palazzo San Giacomo circa un milione di euro che potrebbe essere riutilizzato dalle municipalità stesse per servizi alla cittadinanza. I vertici di partito stanno lavorando per stipulare una proposta sul tema da portare in Consiglio Comunale. Lo sottolinea ai nostri microfoni Marcello Taglialatela. La proposta è quella di non nominare, non lo sono stati ancora da parte di nessuno dei dieci presidenti delle municipalità, di non nominare gli assessori nelle municipalità. La circostanza vuole anche che dei dieci presidenti di municipalità cinque siano espressioni del centro-destra e cinque espressioni del centro-sinistra e quindi vi sarebbe da questo punto di vista una sostanziale parità che deve essere utilizzata in positivo. Tra l'altro sarebbe un bel segnale che Napoli lancia all'Italia perché potrebbe essere un modo efficace per fare cose che immediatamente determinano risparmio. molto più della cancellazione delle province che per carità è un provvedimento sul quale vale la pena insistere ma che avrebbe un suo risultato solo a partire dalla prossima consigliatura. Mentre per quanto riguarda le municipalità l'effetto sarebbe immediato.